Nella provincia di Nevsehir, in Turchia, c'è un luogo assolutamente incredibile, un'intera città scavata nella roccia. Si chiama Derinkuyu, ne parla per primo senofonte nella sua anabasi del IV secolo a.C., e scrive che le persone vivevano qui con famiglie, animali e vettovaglie necessarie per resistere agli assedi anche lunghi tre mesi. Gli scavi iniziarono nell'VIII secolo a.C. e continuarono fino all'epoca bizantina, quando Derinkuyu fu usata come rifugio dalle persecuzioni contro i cristiani. Al suo interno c'erano case, una chiesa, locali per lo stoccaggio alimentare, cantine vinicole e anche una sala che veniva utilizzata come scuola. Derinkuyu continuò ad essere usata come rifugio contro le persecuzioni fino all'inizio del Novecento, poi finì completamente abbandonata e dimenticata. Nel 1963 un abitante del posto tirò giù una parete di casa propria e gli si aprì davanti una città tentacolare che si spinge fino a 85 metri sotto terra ed è una meraviglia proveniente da un passato antichistico. Grazie mille.